Va detta che la storia del suino nero di Calabria, grazie alla estrema disponibilità e competenza di Franco Simone, ci racconta in pratica e parte da lontano di animali che un tempo passevano liberi e indisturbati per le strade dei paesi calabresi e che anzi costituivano uno dei capisaldi della vera e propria economia domestica, animali che però nella metà degli anni 70, dello scorso secolo naturalmente rischiavano, anzi l'hanno proprio rischiata l'estinzione e in questo senso l'associazione creata da Franco Simone ormai di una forte importanza e impatto non fa altro che proporre e promuovere iniziative che possano utilmente contribuire al miglioramento, alla valorizzazione e alla diffusione del suino nero di Calabria, un'associazione che quindi pianifica le attività relative all'organizzazione di una vera e propria filiera regionale, curandone naturalmente nei casi adeguati sia l'allevamento che la macellazione, la trasformazione, la conservazione e la vendita in forma sia diretta che in diretta, oltre che ovviamente all'organizzazione di eventi, sagre, manifestazioni, convegni e seminari di studio in tutti e all'estero, è veramente questo con grande successo, anche perché si tratta in fondo di riferimenti rivolti alla cultura contadina e alle tradizioni rurali più autentiche della Calabria e nei prodotti che Franco Simone in modo particolare con la sua agenda propone naturalmente abbiamo il grande prosciutto, il capicollo, la soppressata e l'intrigante e coinvolgente duia, attenzione ma tutti, del suino nero di Calabria. Dunque, finalmente il nostro amico e collega palato anarchico, dopo tante occasioni di visite in manifestazioni fieristiche, dove naturalmente finivamo, anzi finivamo, iniziavamo e finivamo con assaggi e degustazioni, ci ha portato in uno dei posti di riferimento, questa è diciamo che una delle sedi più rappresentative, storiche di fatto che abbiamo per quanto riguarda Nero di Calabria come poi vedrete dalle vari racconti anche di immagini e visivi. Però Giuseppe, tu voglio dire, su questo ce lo puoi dire, hai avuto un incontro con questo prodotto in epoche non sospette e soprattutto a dimostrazione di come c'è una grande Calabria di qualità. Bruno, tu ricorderai che chi ci ha insegnato prima a te e poi a me ad approcciare il mondo di un gastronomo ci ha insegnato che prima c'è l'agroalimentare, non ci può essere una buona lavorazione di salume e di suino nero se non c'è il suino nero. C'è una grande... sta succedendo, purtroppo si avrabbierà il presidente amico, dottor Simone, io lo sfotto, ma si avrabbierà. Non vorrei che succedesse qui in Calabria quello che è successo a Colonnata, ok? che si fa l'ardo di Colonnata nelle vasche d'acciaio che è ben diverso da quello fatto nelle vasche di marmo. Io mi auguro che chi come i produttori che fanno parte dell'associazione di suino nero continua a lavorare sul territorio, a rispettare il territorio e ad allevare i maiali di suino nero che poi l'ha introdotti Antonio Pizzini al presidente dell'Assa, ha avuto questa grande folgorazione sulla via di Damasco di rintrodurre il suino nero di Calabria, ma il problema grande qual è? Per quanto ci siano sforzi da parte di molti di promuoverlo, si è riuscita a sdoganare questa produzione soltanto negli ultimi 5-6 anni, perché c'era sempre nell'immaginario comune che i salumi calabresi sono piccanti, e non è vero perché l'anduglia non è ossessivamente piccante. I vini calabresi sono considerati vini da taglio, oggi i vini calabresi sono considerati vini, i salumi calabresi sono salumi. Nelle immagini si vedranno alcuni dei premi che ha raccolto questo signore che abbiamo di fronte a noi, che la dicono lunga sulla qualità del prodotto. La rabbia qual è? La rabbia che spesso quando ti trovi a girare, capita a te come capita a me, e ti dicono qua ti faccio assaggiare un suino nero di Calabria, già quando vedi il colore capisci che non lo è, come glielo spieghi a un ignorante che quello nessuno nero? Allora, la nostra riflessione sta in questo, al di là prima ancora di raccontarci gli ultimissimi premi a dimostrazione, non a caso nel tuo sito vediamo un caro amico che proprio eri se non ero affatto 50 anni, Paolo Massobrio, tra le altre cose, con il suo golosario e poi personaggio molto vicino a Veronelli già in epoche non sospette. Però la mia domanda è come è nato tutto questo da parte tua, individualmente, in maniera familiare, come nasce, legandomi con il territorio? Ma devo raccontare proprio la verità? La verità, certo, bellissimo. Nasce tutto perché io sono stato all'estero per dieci anni, poi sono tornato qua, vi dico questa è pura verità, vengo qui con un'azienda e mi metto a vendere materassi, proprio così. Certo. Il nero di Calabria, questa realtà, nasce proprio per colpa di un materasso. Bellissimo, colpa, magnifica colpa. Sì, sì, è eccezionale, sì. Dunque dovete sapere che io di Maiali non ne capivo nulla, io vengo da tutt'altro settore. In una vendita che feci, feci un finanziamento, abbiamo riempito dei moduli, poi questo signore che è un anziano, stiamo parlando di ben nove anni fa, questo risale a nove anni fa, questo signore mi dice, sai dopo la vendita sei lì, ti offre il caffè, si parla, e mi diceva guarda, ho problemi, non posso vendere dei maiali neri che ho. Quando io sentì la, maiali neri, mi stupì un attimo, e allora dico, ah i maiali neri me li fai vedere, dico. Quando ho visto quei maiali, non lo so, scattò una molla proprio. Sì, sì, un'intuizione anche. Sì, anche, perché no. E dico, ma questi sei maiali, dico, come non li riesco a vendere, quando ne vuoi. Combinazione, mi disse, più o meno la cifra del finanziamento che si era. Certissima. Io lavoravo presso un'azienda. Certo, certo. E dunque gli dissi, ma, dico, se vuoi facciamo una cosa, strappo il contratto e tu mi dai i maiali. Questo mi fa, sì, domani te li porto. Dovete sapere che mi li porto veramente il giorno dopo, non avevo... Che tu non eri preparato ad accogliere. Assolutamente no. Avevo, ho dei terreni là. Sì, certo. Avevo un piccolo recinto, ma con una rete per... Certo. Avevo un po' di galline lì, messe lì. I maiali ce li mangiamo tutti. Mi arrivano questi maiali e cominciano tutta l'avventura, perché voi non sapevano mai cosa per mangiarselo. C'è sempre la strano, però in America sanno che... Giusto, giusto. I pomodori nascono nelle vaschette. Certo. E quindi, figurate. Ed è da lì che hai iniziato. Sì, da lì è iniziato tutto. Ovviamente, quello che consiglio a tutti è... Quando c'è un'altra persona che ha competenza in materia, bisogna ascoltarle queste persone. E così ho fatto io, andando a visitare questi piccoli... Tanti piccoli allevatori. ...questi piccoli allevatori. Da lì mi è nata questa idea di raggrupparli insieme. Però devono a te, va detto con tutta, adesso non per piageria, ma devono a te, alla tua iniziativa, la loro sopravvivenza e la sopravvivenza di un'antica tradizione. Se no si sarebbe perduto. E la valorizzazione stessa. Certo, certo, certo. E questo ti senti ben responsabile? Sì, mi sento abbastanza responsabile. Devo ringraziare loro perché hanno creduto in questa realtà e dopo qualche sofferenza iniziale, però adesso si prendono delle belle soddisfazioni. Sì, perché poi rispettano un certo disciplinare che si è creato, mantengono la qualità, un'assagionatura di un certo tipo, non è un discorso, mangiano, sono allo stato brado i maiali, mangiano in una certa maniera, quindi è tutta una logica che c'è dietro. Certo, abbiamo dei disciplinari proprio di produzione per quanto riguarda l'allevamento, l'alimentazione, il finissaggio, cosa devono mangiare negli ultimi 60 giorni di vita. Per avere l'omogeneità del prodotto. Non è che oggi io mangio una soppressata e un sapore e fra sei mesi ne mangio un'altra e cambia bisogno. Sì, perché se no poi in quel caso da parte del consumatore finale e anche degli operatori non c'è più la giusta risposta perché non c'è la continuità di gusto di un certo tipo. Certo, certo. Noi quello che garantiamo nella nostra filiera è proprio questo, è proprio l'omogeneità del prodotto e la qualità. Il gusto è in più, se mi incontro male, c'è totale assenza dei gluti, è totale assenza dei conservanti. Naturalità reale, genuinità reale. 100% naturali, c'è solo sale e pepe. L'unico conservante sono questi, sale e pepe. Va detto che in tutto questo non a caso hai più sedi, tra virgolette, al di là di una sede legale, hai più riferimenti proprio in virtù di questo sviluppo che hai dato tu. Certamente, certamente. Ricordiamo, qui siamo esattamente nella sede... Qui siamo nel comune di Paterno Calabro, perché siamo a Piano Lago, però ricade nel comune di Paterno Calabro. Quindi siamo a Piano Lago che ricordiamo sono oltre 600 metri di valico, se mi ricordo bene. Per l'esattezza 650. Esatto, e siamo però a un quarto d'ora da Cosenza. Sì, dieci minuti, dieci minuti. Questo per dare anche la collocazione, ma siamo già in pieno territorio naturale. La nostra peculiarità è la Calabria e siamo a meno di 40 minuti dal marco. Eh sì, certamente, la bellezza, come al solito, in piena asila, dove uno può scegliere di andare sul lato ionico verso Crotone, piuttosto che su quello tirrenico verso Paola, non a caso. Domanda. In questo però vedo che finalmente, in questi ultimi tempi, ma non solo, incominci a avere dei bei riconoscimenti, perché come recentemente col Gambero Rosso Online, poi tanti premi. A quale sei più, si fa per dire, affessionato per qualche motivo speciale, mentre intanto i nostri vedono i vari premi come sottofondo? Ma un po' tutti, direi un po' tutti, però ce n'è uno in particolare che sono rimasto sorpreso, che sono stato contattato nel mese di fine maggio dell'anno scorso, quindi parliamo del 2015. 2015, maggio 2015, mi contattano da Roma per il premio Medusa, che mi è stato consegnato presso il Policlinico Umberto I a Roma, sono rimasto sorpresissimo, perché sapevo qualcosina, ma loro addirittura hanno fatto delle analisi approfondite sul prosciutto, quindi siamo stati premiati col premio mediterraneo per la qualità, come prodotto con caratteristiche salutistiche, quindi un aspetto di benessere del fisico, dell'alimentazione. Certo, stiamo parlando del prosciutto del maiale nero, perché viene stagionato tre anni, in questa stagionatura, in questa lunga stagionatura, il lardo si trasforma, questo grasso diventa, passa a essere un grasso nobile, con delle caratteristiche organellettiche, vi dico, stupefacenti proprio. E questo è, ecco, questo è, diciamo, che mi ha dato più soddisfazione, sia a me, sia agli allevatori. Tra l'altro voi avete una collaborazione anche con l'Università della Calabria, non a caso, sotto questo aspetto, proprio per il riconoscimento di qualità, di queste originarietà delle materie prime, tutto ciò viene seguito anche da un punto di vista, quindi, universitario, tra virgolette. Certo, non solo con l'Università della Calabria, ma anche con quella di Messina, perché stiamo, e grazie a Dio ci riusciremo fra poco, riusciremo a dire se in un salume c'è maiale bianco o maiale nero. Quindi una sorta di metodologia di individuazione. Sì, con delle analisi che stanno facendo, stanno facendo proprio la scala del DNA del maiale nero, ma questa è l'Università della Di Messina. Ma lì, però, mi dicevo prima io, finiamo a dire che è un salume, su uno nero, quando è un altro anno, è stato il bianco, però... Su questo... Su questo vorrei dire, una parentesi la vorrei dire. Oggi, sto maiale nero, tutti quanti hanno maiale nero. Infatti, è come prima il nostro amico Palato Narchi, lo abbiamo scritto e detto in epoche non sospette, in altri prodotti italiani, che poi, da che appartengono a piccoli territori, improvvisamente, divengono di dominio pubblico. Certo, certo. Però c'è un fatto che ci tengo a precisare, che il maiale nero, il nero di Calabria, perché se ne sentirete, ogni tanto vi dice qualcuno Ah, la cotenna non si può mangiare perché ti raschia in gol. Quello non è il maiale nero. Il maiale nero, tu ti mangi una cotenna, è più saprita dell'ese. Il maiale bianco, quando si fa la famosa quadara, può non disgustare. Lì ne puoi mangiare quanto ne vuoi che non disgustare. Perché i grassi saturi si volatilizzano. Quindi il povero Cristo che gira la quadara, vi posso garantire che non ne mangia, perché assorbe tutto quei... Tra l'altro su questo, sulle recenti polemiche internazionali uscite nei confronti della carne e quant'altro eccetera, su qua voglio dire voi rispondete con una genuinità di base che parla da solo. Questa è la verità maggiore. Certamente. Io dico sempre che il miglior giudice è il palato di una persona. Quindi è inutile che vi presenti il prodotto, ne parlo così tanto. Perché nel momento che una persona prova il nostro prodotto, capisce la differenza che c'è, non c'è bisogno di parole. Qua il riferimento in esterno, al di là di alcuni punti in Calabria, ma la vendita è anche e soprattutto in altre zone d'Italia, ma anche l'estero piano piano incomincia a essere interessato. Sì, abbiamo aperto il mercato in Francia, qualcosa solo a Vienna e adesso in Germania. Certo, un passo per volta, pur di mantenere quella famosa qualità di cui noi dicevamo in proposito. Certamente, certamente. Senti un po', ma tu quando lo devi abbinare a un vino, subito passiamo a una provocazione a secondo del tipo di fetta, c'hai delle tue scelte come tipologia di vino. Adesso senza dire se è il vino di Tizio o di Caio, visto che in Calabria non mancano vini. Ma su questo io dico che ogni regione ha la sua peculiarità, quindi è da ammirare. Guai a limitarlo ad uno solo, è vero. Dici, Giuseppe. Siccome io sapevo che venivamo in un posto di eccellenza... Non a caso abbiamo fatto una provocazione. Sai, ma io ho qualcosa che poi dopo assaggeremo con il suino nero di Calabria. Perché c'è un produttore calabrese che ha fatto della Romagna la sua seconda patria, che è Condello, che fa Condè, che fa il Sangiovese di Romagna. Quindi io provo caratteriamente in macchina, ho una bottiglia di Sangiovese di Romagna, prodotto da un calabrese, che abbineremo al suino nero di Calabria. Grande provocazione in tal senza. Comunque un vino che si abbina con questo prodotto deve essere un vino molto tanninico, no? Sì, naturalmente, certo, altrimenti viene coperto dal gusto del maiale nero per evidenti ragioni. Volevo ritornare sul fatto del maiale nero. Siccome adesso vi potete... Sentiamo ogni giorno che dice qualche cinghiale ha attaccato una persona... Vi siete chiesti come mai succede questo? Eh sì, giusto, è vero. Perché succede questo? Perché non è più il cinghiale nostro di una volta. Adesso il cinghiale autoctono è stato mischiato con un maiale, un verro che mi pare che provenga dall'estero. Adesso mi sfugge... Dalla Spagna. No, no, dalla Spagna no. Questo verro che ha pelo lungo nero viene inglociato col cinghiale nostro autoctono. E quindi viene fuori un animale più grande, non più selvaggio perché è stato abbinato con questo... Ovviamente. Poi alcuni qua in Calabria, giustamente, dove c'è da fare i soldi uno si dà subito da fare, ingrociano questo verro qua con il maiale bianco e esce fuori un maiale nero. Ma non è assolutamente, non è il nero di Calabria, perché il nero di Calabria strutturalmente è completamente diverso da quello. Certamente. Però un cliente che dice voglio ma è il nero di Calabria, o si affida ad aziende affermate che ci siamo da anni sul settore, oppure mangiate quello che vi spacciano per nero. L'associazione, da quanto tempo c'è esistente, l'associazione di riferimento che tu governi anche per aiutare tutti gli allevatori? Sono sette anni che siamo sul mercato. Ormai con una certa serietà hai subito impostato questo discorso. Sì, siamo andati in due o tre, adesso siamo 34 soggi. Non a caso. Sì, sì, sì. Senti, ma questa famosa è una leggenda metropolitana, il fatto che viva lo Stato brado come si scrive e si dice, oppure nella realtà, cioè dici la verità. Su questo, a volte gli spagnoli, quelli che invece fanno come il famoso patanegra della situazione, esatto, ci provocano un po'. Quando volete venire a vedere qualche allevamento di ingrasso, stiamo parlando, parliamo di un allevamento per esempio di 140 ettari. Aspetta, a livelli... Quindi stiamo parlando di 140 ettari, su questi 140 ettari recintati, con recinto elettrico, ovviamente oltre alla rete c'è il recinto elettrico. Naturalmente. Ci sono solo 650 maiali, quindi fatevi voi due conti, senti... Cioè ogni maiale ha a disposizione un regno in proposito. Tu hai aperto la parentesi legata al Serrano e al Patanegra. Esatto. Non vorrei ricordare male, perché un po' mi sono ricoglionito con l'età, però mi pare che mentre Gamberosso stava facendo una degustazione bilipin, 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 avevo un nevo di Calabria come prosciutto e alla fine dovete cambiare la stampa e dare le pagine centrali. Fatevi raccontare questo episodio se... Sì, questo dici, dici questo fatto simpatico. Eh sì, qui... Sai, ti ricordi allora? Non ti ricordo tutto. Siamo stati impitati tramite un amico a una degustazione e poi dicevo che questi poverini della Calabria... Certo, da dove arrivano? Eh, dicevo no, dove devono andare perché c'era un famoso Serrano spagnolo e quindi per, diciamo, per non urtare un po', eh, fecero questa degustazione al buio e nel piatto... Sì, c'è la famosa degustazione cieca. C'è cieca. Ed allora abbinarono A a un prosciutto, B all'altro, all'altro prosciutto. Con nostra grande sorpresa, questi guru del gusto che assaggiorano questo prosciutto votarono tutti B e combinazione questo B era il nostro prosciutto. Non vi dico come... Che era successo? Nulla togliendo naturalmente, no, nulla togliendo agli amici spagnoli, a certi grandi prodotti, per carità che ci sono. Tra l'altro c'è tutta un aspetto artigianale di come si taglia, ci sono delle scuole sui tagliatori, quindi, insomma, è qualcosa di particolare sotto questo aspetto. Sono due cose completamente diverse. Non è che uno è meglio o uno è meglio. Sì, ma infatti è questa la verità sacrosante. Due scuole due. Con dei risultati pari eccellenze. Certo, certo. Vabbè, adesso poi andremo nei particolari, ci vediamo qualcosa. Però ci andiamo a vedere una cosa speciale che ci ricordiamo, che ti abbiamo sempre visto nelle tue esposizioni fieristiche. Lì dentro c'è un pezzo da museo. Sì, quello ci segue sempre. È la mascotte. Sì, la nostra mascotte. La mascotte che sembra che non parli, ma parla quando si inserisce dentro il prosciutto. Lo andiamo a riprendere. Va bene, va bene, andiamo. Sì, la nostra mascotte. Sì, la nostra mascotte.